Però non ho uno skateboard, tutti in classe mi hanno uno skateboard, tranne me. Ora Tristram non esagerare, su. Beh, uno ce l'ha, Alistair Smith. Suo padre sarà ricco. Sì, fabbrica skateboard. Già sconvolge la casa come un uragano, mettiamogli anche le rotelle adesso. Ha comunque soltanto un fuoco di paglia, è come l'ula hoop. Cos'è? Era un grande cerchio, te lo mettevi attorno alla vita e lo facevi girare dimenandoti, era divertente sai. Preparati per la scuola. Allora voglio un ura hoop. Fuori. Lo stiamo vizzando.